Le valigie pronte, ma adesso entriamo nel merito dei colpi sinora messi a segno, abbiamo la grafica degli acquisti, li ricordiamo ancora una volta, gli acquisti sono Bonucci da Bari, che ha giocato nel Bari, Lanzafame, Parma, Martinez, Catania, Motta, ultima stagione nella Roma, Pepe Udinese, Storari, Sampdoria. Dunque, commettiamo subito l'acquisto di Marco Storari, che ha fermato un triennale, un 4,5 milioni di euro in tre anni. Salvatore, ti piace, ti convince? Gli ultimi anni ha giocato alla grande, addirittura ha sfiorato alla nazionale, una volta, due o tre anni fa, quando era a Messina, gli scappò la nazionale perché era andato in vacanza, c'erano stati un paio di infortuni e ormai se n'era andato in vacanza e ha rinunciato lui stesso. Però è un giocatore che ha fatto due o tre stagioni ad altissimo livello, sia nel Milan, sia nella Sampdoria e quindi penso che abbia le carte in regola per poter sostituire Buffon fin quando non recupererà le sue piene facoltà fisiche e tecniche. E come invece Buffon, chi sarà lui o Manninger, quando rientrerà Manninger? Io in questo momento vedo leggermente favorito lui, anche perché Manninger ha fornito delle ottime prestazioni, ma nelle uscite ogni tanto non sembra il massimo della sicurezza, Storari sembra più disinvolto e più deciso. Dal Bari è stato acquisato Leonardo Bonucci, Massimo Storgato, che ha firmato un quinquennale, il costo è abbastanza elevato, 15,5 milioni di euro in tre anni. Ma è un buon acquisto, un ottimo ragazzo che ha fatto settore giovanile all'Inter, ha fatto qualche anno di esperienza fuori, è maturato molto, può fare sia il terzino che il centrale, a mio avviso è un ottimo investimento. Lo vedi bene con Chiellini? Se resta Chiellini, perché poi parleremo anche di Chiellini, perché se arrivasse un'offerta consistente. Ma secondo me anche le grottaglie, visto che ha giocato con del neri a Chievo, ha delle buone chance, quindi come difesa secondo me abbiamo un attimino tamponato la falla a destra, secondo me con Motta, che è un ottimo esterno, quindi tutto sommato una pezza dietro l'abbiamo messo. Ecco, ora parliamo anche di Marco Motta, acquistato a titolo temporaneo per 1,25 milioni di euro dall'Udinese, però c'è il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo per 3,7 milioni di euro in tre esercizi. Ti convince? Ma questa è un'eterna promessa, perché era un ottimo giocatore ai livelli dell'Atalanta. Paolo Rossi, se vuoi. A me convincono tutti. È un ragazzo che prometteva bene, non ha espresso il suo potenziale. Ultimamente quando è andato alla Roma qualcosa in più ha fatto vedere, quindi a mio avviso qualche lacuna in fase difensiva a mio avviso ce l'ha. Però è una buona corsa, una buona visione di gioco, una buona spinta, quindi è un buon esterno. E poi è molto bravo tatticamente a vedere le situazioni di gioco e a comportarsi di conseguenza. È uno, per esempio, che si libera sempre in aiuto del compagno vicino che ha la palla. La scuola Atalanta è portata a farsi sempre vedere, a proporsi e quindi che l'hanno insegnato molto bene nel settore giovanile. E invece lasciamo Simone e Pepe appunto a Paolo Rossi perché ho letto su Rai Juventus la scheda che tu hai fatto di questo giocatore. Quindi ci puoi dire tutto bene. Io credo che sia un giocatore intanto a propulsione offensiva, però è anche un giocatore, tra l'altro anche al Mondiale, nonostante la nazionale sia andata male. Insomma, mi sento di dire che dal punto di vista quantomeno energetico Pepe ha poco da rimproverarsi. Lasciamo perdere che ha sbagliato il gol all'ultimo secondo, ma quella partita era sbagliata tutta. Non c'è da fare la lista dei colpevoli e degli innocenti. Io credo che sulle fasce del Neri chieda moltissimo. Chiede quasi di spremerti, insomma. Tanto è vero che nella Sampdoria stessa i quattro esterni avevano ricambi quasi continui, quasi sempre nella stessa partita. Quindi io credo che i quattro esterni vadano valutati non tanto in termini di titolarità del ruolo, ma in termini di utilizzabilità a seconda della partita. Noi abbiamo due esterni, come Martinez e Pepe, che in realtà sono quasi due punte. Perché tanto nel Catania quanto nel Udinese giocavano in un 4-3-3, tante volte. Vedono discretamente la porta e soprattutto corrono. Questo credo che sarà l'aspetto che deve predominare nella Juve. In questo senso io leggo anche un po' l'assenza del regista. Nel senso che io mi aspetto una Juve molto aggressiva, una Juventus che atleticamente sia importante rispetto agli ultimi anni. E quindi da questo punto di vista credo che non avremo dei grandi fraseggiatori al centrocampo. Piuttosto dei giocatori che magari sanno fare dei cambi di gioco frequenti e soprattutto una squadra che abbia una certa intensità. Perché credo che appunto il gioco di Del Neri sia questo. Tanto è vero che quando lo intervisti Del Neri non ti dice quasi mai 4-4-2, ti dice 4-2-4 significativamente. Sì, è quello che diceva appunto Massimo. Del Piero gioca poco quest'anno. Ha parlato oggi Del Piero, poi ci faremo raccontare molto bene da un amico. E c'è da dire su Del Piero quello che ha detto oggi? Cos'hai da dire? E beh, poi dopo lo diciamo. Dopo lo faremo con il nostro ospite telefonico. Noi abbiamo due questa sera. Con il primo parleremo nei dettagli di mercato e poi abbiamo il secondo che ci farà una bella relazione. e sulla conferenza stampa di Del Piero e poi faremo appunto un bilancio del ritiro di Pinzolo. Ora rimaniamo con Paolo Rossi per parlare anche di Martinez. Ricordiamo che Pepe è stato acquistato a titolo temporaneo. 2,6 milioni di euro più diritto appunto in acquisizione. Lo si può comprare a titolo definitivo per 7,5 milioni in tre esercizi. Ci piace dare i numeri questa sera, Paolo. Martinez ha firmato un quadriennale 12 milioni di euro in tre anni. Ma se tu guardi in generale la rosa da Juventus, quest'anno mi sembra di vedere una serie di giocatori utilizzabili anche in diversi ruoli. Cioè in situazioni di emergenza Martinez può fare la punta. In questo momento ne abbiamo troppe, ma non si sa mai. Magari tra un po' ne avremo molti di meno. Quindi questo per dire Pepe stesso discorso. De Ceglio è un esterno basso ma potrebbe fare esterno alto. Bonucci sa fare il centrale ma può fare anche il terzino. Cioè l'idea, da questo punto di vista credo che un po' sia servita la lezione di questi anni in cui certamente tutte le squadre hanno sempre il titolare e il doppione. Però poi ci vuole anche una capacità, se sei obbligato a ridisegnare la squadra, di non snaturare l'identità. Da questo punto di vista Martinez per me è una scommessa. Nel senso che è un giocatore che non è un esterno puro. Lui stesso in conferenza stampa ha detto se vi aspettate il cross da me, io un po' devo imparare. Però è uno che corre come un dannato. Che ad esempio in Catania Inter ha sfasciato la difesa dell'Inter. È uno che ama avere il pallone tra i piedi. È un driblomane. Vede discretamente la porta ed è molto potente fisicamente. E soprattutto ha l'occasione della vita. Questo era un nazionale uruguayano. L'Uruguay abbiamo visto che tipo di nazionale è. Averne, di giocatori dall'Uruguay. E quindi io credo che può essere una scommessa.